Ciao, benvenuti in mio podcasting stagione 15 vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo fate riferimento ai blog mia fantascienza, mio radar e paleocontatto Ciao Stagione 15, episodio 175 oggi parleremo di una playlist di youtube una mia playlist focus, il collasso dell'Italia la rovina della penisola italica nel ventunesimo secolo dunque che cosa vi posso dire è una playlist di youtube il link lo trovate in descrizione se volete andare a fluire la playlist l'ho trasformata in podcast ci troverete tutta una serie di puntate con un'etichetta Collasso Italia Collasso Italia, il martirio di una lieta novella drammi economici in settore primario, secondario, terziario Collasso Italia, cosa ne sarà della finanzializzazione e la digitalizzazione dell'economia crono programma di collasse, guerre puniche, mediterraneo 2050 dalla transizione energetica di Soros alla visita dal neuropsichiatra questo è un bel podcast che io vi consiglio di andare a visionare perché vi aiuterà a prendere le misure delle palle che i mass media italiani, i giornaloni oni oni e televisioni oni oni stanno spacciando fallimento finanziario di televisioni, i giornaloni, sono eventi sentinella? sì, e questo podcast vi spiega il perché Collasso Italia ma la carne, il pesce, la verdura, è la frutta sintetica, è la fusione nucleare sono speranze di futuro? no, non lo sono il perché lo trovate proprio in questo podcast lo trovate sempre nella playlist Collasso Italia sempre la serie Collasso Italia dove mettervi le legioni di immigrati quanto la funzione di produzione Cab Douglas eccolo qua, un altro bel podcast questa è tutta una serie di podcast conologiche praticamente economiche che parlano sostanzialmente degli impatti del cambiamento climatico in particolar modo sull'Italia Collasso Italia, un paese senza produttività e senza futuro che rifiuta le innovazioni di processo Collasso Italia, migranti africani, accoglienza o respingimento nel ventunesimo secolo ecco, un bel podcast prospettico che vistura praticamente il cervello riportandovi un po' di più alla realtà e poi ce ne sono numerosi altri di podcast come ad esempio Collasso Italia panorami sul futuro della penisola italica alla rovina nel ventunesimo secolo la salita è lenta ma la caduta è rapida la curva di Seneca quale futuro per il welfare state italiano nel mediterraneo 2050 Collasso Italia esiste un futuro di prosperità per l'Italia nel ventunesimo secolo ecco, se volete sapere queste cose quanto ad esempio il podcast relativo al stime sui decessi da Overshot Day 2050 nella penisola italica il futuro della moda che non c'ha nessun futuro e la piramide del ciclo alimentare contro l'Overshot Day cano Mattei tutto cazzo e infine riflessioni sul futuro migratorio in Africa 2050 intorno a discussioni sulla bomba demografica africana e guerre nel mediterraneo entro il 2050 eccetera io vi consiglio di andare a fruire questo bel podcast Collasso Italia è una bella playlist che parla praticamente podcast tematici sulle dinamiche di collasso economico dell'Italia nel ventunesimo secolo quindi praticamente quello che è già noto e che già praticamente si sa in sostanza del futuro poi vi troverete sempre all'interno della playlist tutta una serie di podcast speciali di mio podcasting sempre con temi della bomba demografica scenari mediterranei futuro demografico e altri podcast sempre di climatologia demografia e quant'altro quindi e questo è più o meno tutto ecco ciao alla prossima ciao 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 ciao